In verità di dita ne abbiamo 20. Ho capito, però non è che contiamo con le dita dei piedi. Tu no, però ci sono delle popolazioni antiche, presso le quali le scarpe non erano abituali, dove le dita dei piedi hanno una funzione forte, come quella delle dita delle mani. Contare in base a 20 era assai naturale.